Assessore, fanno due un quartiere lasciato all'abbandono, dicono alcuni residenti, ma anche il PCI. Che cosa risponde? Assolutamente no. Quest'amministrazione in questi anni si è presa a carico delle necessità del quartiere, tanto che ha realizzato un parco pubblico con dei nuovi giochi che sono a disposizione e molto vissuti dalla cittadinanza, da bambine e famiglie. Io ci passo con regolarità e verifico sempre questa cosa. Abbiamo realizzato anche uno sgambatoio che naturalmente ha delle dimensioni molto più piccole rispetto agli altri, ma questo i concittadini che ce l'avevano chiesto del quartiere ne erano a conoscenza, ma pur di salvaguardare quello che era uno stato di igiene delle altre parti verdi, erano stati, voglio dire, consenzienti, per cui noi siamo andati avanti. E non è vero che ci sono pochi cani all'interno, perché, ripeto, frequentando quel quartiere sono la prima a vederlo. Per quanto riguarda invece sporcizia, quindi dicono poca attenzione nella cura urbana, ma anche parcheggi e fontani in particolar modo. Voglio aggiungere una cosa, che proprio questa mattina sono stati lo stesso comitato a smentire una parte di queste dichiarazioni, perché naturalmente hanno già anticipato quello che sto dicendo. In questi anni noi abbiamo previsto anche tutto un piano del verde che non era prima fatto, nel senso un piano proprio di gestione del verde. Per quanto riguarda la sporcizia, molte volte dipende anche dal buon uso e il buon consumo che ne facciamo noi cittadini, e questo purtroppo lo verifichiamo a me, in tanti altri quartieri non solo fanno due. Per quanto riguarda la fontana, invece, qui è vero. È vero perché mi hanno già sensibilizzata proprio nella riqualificazione di quello spazio, chiedendomi di non ripristinare la fontana, ma di fare un'area vegetativa. E sarà quello che faremo, tanto che proprio per adempiere le loro richieste, dopo le ferie, chi vorremmo incontrare. Si è parlato di una città dormiente così? Sì, ma assolutamente no. Viva Dio, siamo una città talmente viva che in questi anni abbiamo riqualificato 32 parchi, di cui 17 completamente nuovi, proprio perché abbiamo sempre più bisogno di rigenerarci in spazi dove appunto si fa del gioco.